Dice di nuovo il contrario di quello che ha detto un'oretta fa, gli stati generali non sono un'urgenza, quindi riorganizzare il movimento eccetera eccetera, tutto questo che aveva detto invece che era urgentissimo adesso improvvisamente non è più urgente. Allora è urgente invece che vi faccia vedere il punto di Paolo Pagliaro, ricordate Conte era stato accusato di alto tradimento da Salini e anche dalla Meloni, a difenderlo non ci sono stati i suoi compagni del movimento ma i resoconti della Camera, pochi secondi di pubblicità e quel punto.